Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Cristiano Malgioglio quest'anno è il nuovo giudice di Amici 2022 fratto 2023. Quanto guadagna appuntata? La cifra è da capogiro.Amici, quest'anno il padre di tutti i talent, condotto e ideato in maniera magistrale e impeccabile Da Queen Mary, ha cambiato pelle per quanto concerne la fase serale e finale. Rinnovata al massimo la giuria, che ha visto un chiacchieratissimo abbandono Difatti non figura più tra i giudici Stefano De Martino, nato artisticamente parlando proprio all'interno della scuola di Amici. Al suo posto è arrivato Giuseppe Gioffre, che sta ottenendo ottimi consensi da parte dei numerosi telespettatori Ad affiancarlo in questa nuova avventura professionale Michele Brani, tra gli artisti più apprezzati dai giovani e giovanissimi, e il carismatico Cristiano Malgioglio Malgi, riveste da qualche anno a questa parte il ruolo di giudice in altre trasmissioni, targate però Mamma Rai Di fatti l'abbiamo visto anche in tempi assai recenti alla corte di Carlo Conti, guarda caso il miglior amico di Maria De Filippi, in due super show di grandissimo successo dirai una, molto appassionanti e che divertono tantissimo gli italiani di ogni età Un giudice molto richiesto.Stiamo parlando ovviamente di tale e quale show e di tali e quali In entrambe le situazioni Cristiano ha ammagliato i suoi estimatori con mise molto particolari e messo in luce la sua ingente professionalità e ragguardevole preparazione per quel che concerne il settore musicale, culturale e dello spettacolo in generale Ora l'artista si è detto molto felice di questa sua nuova mansione alla corte della regina indiscussa delle reti Mediaset Nell'ascoltare le sue parole, visibili anche in alcuni video diventati men che non si dica virali in rete, molti utenti hanno iniziato a chiedersi a quanto ammunti il compenso di Cristiano per ogni singola puntata dal padre di tutti i talent Ed è a quel punto scoppiato lo scandalo.Il cachet da capogiro di Cristiano A quanto pare staremmo parlando di ben 20.000 euro a puntata, sebbene non si abbiano conferme in via ufficiale Il rumor ha fatto molto discutere e ha lasciato interdetti più In ogni caso Cristiano, al di là di quanto prenda come cachet, è un artista a tutto tondo straordinario e apprezzatissimo dal grande pubblico Ha le spalle una carriera lunga e di massimo rispetto. Inoltre ha avuto modo di collaborare con immensi artisti, non solo in ambito nazionale ma pure internazionale Ha scritto canzoni memorabili ed è un uomo molto colto, elegante e raffinato. Profondamente ironico e sensibile, ama pure condividere momenti della sua quotidianità sui social, tramite sia post che video, che diventano in men che non si dica virali Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti